Nero Giardini, collezione donna, primavera estate 2014, codice articolo P409981D, variante colore 406, materiale Stefan, corrispondente al colore tortora. Prezzo di vendita al pubblico 139,50€. Si tratta di uno stivaletto con tomaia in pelle tortora, gambale traforato parzialmente e chiusura con zip sul lato esterno. Inoltre troviamo questi due automatici personalizzati Nero Giardini, i quali è possibile aprirli e risvoltare lo stivaletto in questa maniera. Quindi è possibile portarlo in entrambe le posizioni, con gambale sollevato o gambale abbassato come in questa posizione. Guardiamo la forma, è una forma rotondata con guardolo chiuso. Sul lato interno non è presente la zip, l'altezza del gambale circa 12 cm, il tacco è 2,5 cm e la suola è in gomma antiscivolo completamente personalizzata Nero Giardini. Grazie. 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 Grazie.